Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori. Clamorosa notizia dell'ultimo minuto trovati nel fiume. In questo video vi aggiornerò sulla scomparsa di Giulia e Filippo, il fatto di cronaca che sta tenendo con il fiato sospeso l'Italia intera, si indaga e la notizia dell'ultima è che sono stati trovati alcuni brandelli di abiti femminili sull'argine del fiume Muson nei pressi di Stigliano. C'è da capire se gli abiti siano effettivamente appartenenti a Giulia, la ventiduenne scomparsa con l'ex fidanzata. Ricordiamo che i due sono a bordo di una grande punto nera e da qualche giorno non si ha più notizia dei due ragazzi. Il secondario Marco Liguori continuerà ad aggiornarvi in tempo reale sul fatto di cronaca del momento con la speranza di fornirvi a breve delle belle notizie, magari la notizia del ritrovamento dei due ragazzi sani e salvi amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao! Grazie!